L'Altamura riparte con una vittoria dopo l'importante torneo dello scorso anno in Serie D e lo fa in un campo difficilissimo come quello del Giovanni Paolo II di Nardò. Squadra ospite di De Luca in campo con un 4-5-1 con Palazzo Terminale Offensivo e Guadalupe ad ispirare. Per il Nardò invece un più audace 3-5-2 con Molinari e Palmisano in avanti. Un successo che arriva nella ripresa ma che è frutto di una buona prestazione nell'arco dei 90 minuti al cospetto dei Neretini. Terreno di gioco in pessime condizioni e di granata in maglia gialla per l'occasione. Partono subito Forte, Cristienti entra in aria e con il mancino trova solo l'esterno della porta. Ma la squadra di De Luca Sorgnona colpisce al primo affondo. 10 minuti e Guadalupe lancia in diagonale Leonetti, bravissimo ad anticipare Benvenga e poi a battere Mirarco. Il Nardò subisce il colpo ma cerca di riorganizzarsi ed al 25esimo sfiora il pari grazie al calcio di punizione battuto da Benvenga. Poi è nuovamente la squadra ospite con un tiro mancino di Tozzi di poco a lato. Al 44esimo poi l'altamura pecca di ingenuità. Escarano prima esce in modo avventato e poi a terra bolognese in area. Il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il penalty trasformato successivamente da Molinari freddissimo dal dischetto. Nella ripresa si riparte dall'1-1 con il Nardò però subito pericoloso al 14esimo. Grazie ad una punizione dei 30 metri di Prinari sulla quale Escarano è bravo a salvare tutto. Ma l'alta mura, come nel primo tempo, colpisce nel momento migliore per i padroni di casa. E' sempre Guadalupi a servire questa volta a Gagliardi che a tu per tu con Mirarco si fa ipnotizzare dall'estremo difensore di casa. Ma la sfera carambola su Acquaro che sigla la più sfortunata delle autoreti. La gara è tutta in discesa per gli ospiti di De Luca che controllano agevolmente il match e rischiano solo nel finale a 5 dal termine con una punizione di Bertacchi che termina sul fondo.